Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV City in apertura all'emergenza sanitaria. Salgono i casi di contagio da Covid-19 nel Napoletano, deceduta una donna nel comune di Ercolano, mentre a Castellammare, nelle ultime 24 ore, registrati 78 nuovi casi positivi. Si avvicina il ponte di Ogni Santi, il sindaco di Torre del Greco ha deciso, il cimitero sarà aperto. Di diverso avviso il governatore della campagna, che raccomanda la chiusura per evitare assembramenti. Torna nelle scuole la didattica a distanza, anche per la scuola dell'infanzia, e il presidente De Luca, nelle ultime ore, ha firmato la nuova ordinanza. Abbiamo intervistato la preside dell'Istituto De Nicola Sasso, che ha illustrato come si è attivata la scuola. Riapertura dei mercati a Torre del Greco, i volontari del corpo GAV, presenti sul territorio, per sensibilizzare i cittadini all'uso corretto della mascherina. Passiamo alla cronaca, operazione Easy Tax della Guardia di Finanza, sequestrati beni per oltre 15 milioni di euro e denunciate 14 persone. In chiusura l'iniziativa del gruppo locale di Amnesty International nella settimana dedicata ai diritti umani. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Una corsa contro il tempo. Sale la preoccupazione nel Vesuviano per l'impennata delle ultime ore di contagi da Covid-19. I sindaci dei rispettivi comuni si dicono preoccupati. Nel comune di Torre del Greco, ieri, registrati 31 ulteriori casi di positività da Covid-19, di cui 2 ospedalizzati e 29 in isolamento domiciliare. Si contano però anche 3 nuove guarigioni. In totale, quindi, sono 298 i casi positivi in città, di cui 291 in isolamento domiciliare e 7 ospedalizzati. Brutta notizia per la comunità di Ercolano. Nella giornata di ieri, registrata una vittima da coronavirus. Come spiega il sindaco Bonaiuto, si tratterebbe di una donna di 57 anni, con patologie pregresse, ricoverata presso il Covid hospital di Bosco Trecase. Sono affranto e vicino alla famiglia, esprimo il cordoglio mio personale e di tutta la città, ha affermato il sindaco. Dopo la guarigione dal virus, il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, ha diramato attraverso una diretta Facebook i dati dei contagi. Si registrano 351 persone positive, delle quali 19 non residenti a Portici, ha affermato il sindaco. Sono stati effettuati dal 16 agosto circa 7300 tamponi, un numero enorme per una città di queste dimensioni, ha concluso. Cresce ancora il numero dei contagi a Castellammare, in linea con l'andamento in tutta la regione Campania. Sono 78 i cittadini che nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al tampone, mentre 13 sono le persone ufficialmente guarite. Il sindaco Gaetano Cimmino spiega L'incremento dei contagi è sempre più preoccupante. A tal proposito, ho richiesto al direttore generale dell'Ast Napoli 3 Sud di garantire esiti più rapidi perché il virus corre velocissimo. Altri 16 positivi al virus a Bosco Reale. Registrate 6 guarigioni. Salgono quindi a 99 i casi di contagio nel comune vesuviano. Sono molto preoccupato da quest'ulteriore impennata di contagio, ha dichiarato il sindaco Antonio Diplomatico. Raccomando la massima attenzione e l'uso continuo della mascherina, che resta un presidio importante a difesa del virus. Si avvicina il ponte di Ogni Santi e la commemorazione dei defunti. In questo momento di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il sindaco Giovanni Palomba ha preso la sua decisione. Cimitero aperto a Torre del Greco. Una questione che da giorni era l'attenzione dell'amministrazione comunale. Il primo cittadino però è stato chiaro nel ribadire che si dovranno rigorosamente rispettare le distanze di sicurezza e le indicazioni del personale sul posto. Sabato il cimitero rimarrà aperto dalle 7 alle 17, così anche domenica 7 alle 17, lunedì il 2 che doveva essere chiuso alle 13, anche lunedì dalle 7 alle 17. Tranne se non c'è qualche altra chiusura a carattere regionale o nazionale, per quanto riguarda Torre del Greco, il cimitero sarà aperto. Abbiamo una collaborazione di tre associazioni di volontariato, i quali coordineranno i flussi. I flussi saranno che via del cimitero verrà divisa a scendere sul lato sinistro e quindi entrare sulla prima entrata del cimitero e poi salire sul lato sinistro. Vi dico subito, la cosa più importante è che chiedo mascherine e distanziamento e poi per le persone anziane o per coloro che hanno delle patologie, logicamente, evitare. Noi siamo alla fine medici e infermieri di noi stessi. Al di là, se qualcuno ci deve dire la mascherina, tenerla o non tenerla, ormai abbiamo capito che praticamente cosa serve a meno per evitare di poter entrare in quelli che poi sono gli asintomatici. Intanto, il dirigente della Polizia Locale e Protezione Civile Salvatore Visone ha predisposto un divieto di circolazione dei veicoli in via del cimitero, il tratto da via nazionale all'ingresso del cimitero, e un divieto di sosta con rimozione coatta in via San Giuseppe alle Paludi. L'ingresso al cimitero sarà consentito attraverso un particolare circuito, indicato da un'apposita segnaletica che disciplinerà gli accessi e sarà previsto soltanto dal varco cosiddetto monumentale e le uscite previste dal varco nuovo. Di diverso avviso, il presidente della Regione Campania, Vincenzo Di Luca, che dopo il meeting con l'unità di crisi della Regione Campania e l'Anci Campania, al fine di evitare assembramenti nei giorni 1 e 2 novembre 2020, raccomanda fortemente la chiusura dei cimiteri nei comuni campani. Torna nelle scuole la didattica a distanza. La dirigente Alessandra Tallarico, dell'Istituto Comprensivo di Nicola Sasso, editore del Greco, illustra alle telecamere di TV City come si è attivata la scuola. Prontamente la scuola si è attivata per la didattica a distanza, nel momento in cui è stata sospesa la didattica in presenza, a seguito dell'ordinanza regionale di De Luca. La scuola si è attivata anche grazie a un documento stilato, che si chiama Piano Scuola Didattica Digitale Integrata, che è stato deliberato dagli organi collegiali, quindi collegio dei docenti e consiglio di istituto. Ci sono dei punti molto importanti e salienti all'interno di questo documento, che dovranno rispettare naturalmente i docenti, perché è previsto anche un monte ore, sia di modalità sincrona che asincrona. La modalità sincrona, quindi che prevede anche delle video-lezioni, quindi in diretta, in collegamento diretto con i docenti, quindi alunni e docenti, sono obbligatorie per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria, soprattutto nelle terze, quarte e quinte. Mentre per il biegno della primaria, quindi prime e seconde, la modalità sincrona non è obbligatoria, è solo facoltativa da parte dei docenti. Stiamo facendo un monitoraggio anche per capire come sta andando questa didattica a distanza. Quindi quando non ci sono lamentele da parte dei genitori, vuol dire che sta andando bene, perché i genitori ovviamente sono molto esigenti, e soprattutto in questa fase, insomma, è ovvio che ci sono delle difficoltà, non è come la didattica in presenza a farlo a casa, anche perché i genitori lavorano, quindi dovranno prendere anche dei permessi per seguire soprattutto i bambini più piccoli, della scuola primaria soprattutto, però diciamo che stiamo avendo delle soddisfazioni in merito. E poi per gli alunni che non erano dotati a casa di computer, quindi anche magari tablet, la scuola prontamente ha consegnato ai genitori che ne hanno fatto richiesta, ha incomodato d'uso anche computer e tablet, quindi per dare la possibilità a tutti di seguire in tutta tranquillità e serenità la didattica a distanza. Poi il professore Giuseppe Romano, in qualità di referente Covid-19, chiarisce a cosa serva l'attività di screening attivata nella scuola. Un modo sicuro, spiega, per individuare possibili casi di positività, conclude tranquillizzando le famiglie. Pare che abbia fatto molto scalpore il fatto che l'Istituto di Nicola Sasso abbia processato 497 tamponi. Voglio precisare che questa campagna di screening è nata in un periodo in cui le scuole stavano chiudendo per l'ordinanza numero 82 del Presidente della Regione Campania e quindi in quei giorni, quando stavamo scoprendo in tutte le scuole, ahimè, fatemelo dire, dei casi Covid, noi ci siamo attivati. Ci siamo attivati proprio per far sì che tutti i bambini che erano entrati in contatto con questi casi, diciamo, di positività del nostro istituto, venissero sottoposti a uno screening. Io, come referente Covid, ho voluto dare seguito a quelle richieste. Sono degli screening a tappeto che servono anche perché quando riapriremo le scuole, spero a più presto, saremo tutti più tranquilli. Che cosa si sente di suggerire ai genitori dei bambini? Di non aver timore, di non aver paura. Questo è un tipo di indagine epidemiologica, secondo me, necessaria. Anche solo per valutare l'ipotesi che un bambino, magari al di fuori della scuola, abbia potuto, insomma, contrarre il virus in un altro modo. Da insegnante, invece, che cosa si sente di dire ai suoi alunni? Noi stiamo vivendo un periodo difficilissimo perché anche la didattica sta risentendo di tutto questo. Dobbiamo avere solo tanta pazienza. Dovrà passare tutto questo prima o poi perché è in arrivo, spero a più presto, anche un vaccino. coordinare i flussi e sensibilizzare i cittadini di Torre del Greco all'uso corretto della mascherina. Questo l'obiettivo dei volontari del Corpo GAV, guardie ambientali volontarie, che questa mattina nella piazzetta di Torre del Greco hanno svolto attività di vigilanza per evitare situazioni di possibili assembramenti. In molti casi, i volontari dotano, in modo del tutto gratuito, i cittadini sprovvisti degli appositi dispositivi di protezione. Secondo le testimonianze, si registra maggior rischio di assembramento non agli ingressi della piazzetta, bensì all'esterno dei singoli esercizi commerciali. In questa giornata cerchiamo di far ricordare alle persone di utilizzare la mascherina, ma alla meglio, perché molte persone la utilizzano in un modo sbagliato. Devo dire che c'è stato un buon riscontro, anche da chi magari non era propenso a farlo. Misuriamo anche la temperatura, qualcuno addirittura ce lo chiede, per una sicurezza loro, non lo so, per incoraggiare questa cosa. La gente si è resa conto che i casi sono aumentati, questo è un punto dove praticamente c'è un grosso afflusso di persone, quindi è importante il distanziamento, la mascherina e il buon senso da parte di tutti quanti. C'è consapevolezza, secondo lei, del virus e della pericolosità? Adesso ci stiamo rendendo un poco conto tutti che la cosa è grave e quindi ci vuole la collaborazione da parte di tutti, se no questa cosa non finirà mai. E devo dire la verità, c'è un buon riscontro, perché la gente ha paura. La nostra presidentessa, Raffaella Belfiore, ci ha munito di mascherine, diciamo le abbiamo comprate noi praticamente, le doniamo alle persone che magari o non ce l'hanno o che magari è messa male, usata male, troppo usata. E questa cosa fa anche piacere per loro e per noi che in questo modo facciamo sì che la persona indossi la mascherina. Sono anziane, si preoccupano, vengono loro da noi per farsi misurare la temperatura e chiedere informazione. L'unica cosa, l'informazione è questa, mascherina e distanziamento. Ci fa piacere, però ci vorrebbe anche dei giovani che devono partecipare, perché vedo che pochi giovani trovano tutte scuse che fumano per non indossare la mascherina. e domani ci sarà anche al cimitero, verranno il corpo Gav per proprio la sicurezza. I tre giorni delle feste di Ponte dei Morti controlleranno anche questo. Tra i cittadini c'è chi non sembra totalmente d'accordo con l'iniziativa. Molte persone reagiscono magari anche con aggressioni verbali, perché non ancora sono entrati forse nell'ottica di capire che la mascherina è una protezione per sé e per gli altri. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 21 ultrapersone fisiche e società ubicate in varie regioni italiane, che ha risposto il sequestro preventivo di somme di denaro e beni per un ammontare complessivo di oltre 15 milioni di euro. L'attività investigativa trae origine dalla denuncia di una società di Latina, la quale, consultando il proprio cassetto fiscale, rilevava molteplici compensazioni di suoi debiti tributari per l'utilizzo di crediti IVA di un'impresa di Marano di Napoli, a lei totalmente sconosciuta. Le successive indagini condotte dalle fiamme gialle di Giuliano hanno permesso di svelare un sistema fraudolento prosto in essere da uno commercialista di Marano, socio e consulente fiscale di due società che avevano acquistato dei fantasiosi brevetti risultati inesistenti, quali un sistema piastra con cuscinetto a sfera per costruire edifici antisismici e un taglierba robotizzato a guida autonoma alimentato da pannelli solari. Entrambe le cessioni risultavano effettuate da un'impresa napoletana non più operativa. L'importo dell'inesistente compravendita per un ammontare complessivo di oltre 24 milioni di euro ha generato un illecito di circa 5 milioni di euro utilizzato dal commercialista per compensare per gli anni di imposta 2017-2018 debiti fiscali di terze società operanti sull'intero territorio nazionale 21 perquisizioni domiciliari e personali tra Napoli Milano Ferrara Perugia Macerata Lodi e Sassari Ci mettono la faccia il cuore le competenze il loro tempo sono i volontari di Amnesty International un movimento di persone determinate a creare un mondo più giusto Fatti sentire lo slogan scelto per la settimana dedicata all'attivismo per i diritti umani in programma dal 25 al 31 ottobre in oltre 100 città italiane Anche l'antenna 008 Comuni Vesuviani di Amnesty partecipa all'iniziativa nazionale Io mi attivo Dal 25 al 31 ottobre con la campagna Io mi attivo Amnesty International la sezione italiana vuole promuovere l'attivismo di tutte le persone che decidono di lottare in difesa dei diritti umani È una settimana dedicata in tutte le piazze italiane alla proposizione di metodologie e di modalità differenziate per poter difendere i diritti umani Ognuno di noi può farlo Lo posso fare io come singolo individuo decidendo di aderire alle campagne di Amnesty International oppure di entrare in un gruppo o in un'antenna locale Lo possono fare le scuole mediante dei progetti di attivazione e di educazione ai diritti umani Lo possono fare le istituzioni che sono un luogo estremamente importante per riuscire a parlare di diritti umani ad un livello che non sia soltanto quello del volontariato ma anche di chi ha il potere di influenzare le decisioni Coinvolti gli alunni dell'istituto De Nicola Sasso di Torre del Greco che hanno seguito percorsi di educazione civica sui diritti umani Sottoscritta dal sindaco Giovanni Palomba e non solo la petizione per chiedere la scarcerazione di Patrick Zaki l'attivista e studente arrestato in Egitto per il suo lavoro in favore dei diritti umani firmo tramite una richiesta fatta da Amnesty International per la scarcerazione di uno studente Patrick Giorgio Zaki il quale lui si batte per i diritti umani per le opinioni politiche espresse sui social media ed è stato arrestato in Egitto quindi anche io aderisco a questa sottoscrizione ricordo che ancora dobbiamo ancora sapere cosa è avvenuto nel caso di Giulio Reggeni io spero quanto prima che questo arresto di Patrick Giorgio Zaki finisca e lui possa ritornare in Italia per portare avanti le sue battaglie per i diritti umani non possiamo altro che stare dalla parte per la libertà di Patrick Zaki ma anche dalla parte della verità per Giulio e tanti altri che comunque hanno vissuto una situazione ingiusta quindi noi siamo contro e non facciamo altro che proteggere tutelare e cercare di essere vicine alle persone che sono vittime di queste situazioni Amnesty International conta oltre 7 milioni di volontari nel mondo siamo una ONG un'organizzazione non governativa che difende i diritti umani oramai da tantissimo tempo e il nostro scopo è sempre quello di riuscire a coinvolgere quante più persone nella attivazione per la difesa dei diritti umani ringraziamo ovviamente il comune di Torre del Greco che ha partecipato stamattina con un'attivazione in difesa dei diritti umani ringraziamo l'istituto comprensivo di Nicola Sasso che si è attivato anche gli veri diritti umani con i lavori dei ragazzi e stasera sarà possibile sul MIT dell'antenna campana comuni vesuviani riuscire a partecipare ad un'altra azione di attivazione per conoscere meglio l'attività di Amnesty International per riuscire a partecipare a quest'azione che è online nel rispetto di tutte quelle che sono le norme di sicurezza attualmente vigenti sul territorio campano basta seguire l'antenna sui social su Instagram cercare Amnesty Comuni Vesuviani oppure mandare un'email all'indirizzo acam008.aichiocciolagmail.com Grazie per la cortese attenzione per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340-6561-484 Arrivederci e buon weekend Grazie a tutti